Musica Le rubo un post su Facebook che scriverà nelle prossime ore il messaggio a tutti gli allunni che dopo domani riprenderanno le scuole? Il messaggio è innanzitutto alle loro famiglie, questi ragazzi devono essere la nostra prospettiva, il nostro futuro ma anche il nostro attuale presente, noi lavoriamo, noi tutti i giorni facciamo gli amministratori pubblici o nel caso si costruisce la famiglia perché loro devono essere la futura classe dirigente della nostra terra, loro devono essere la nostra prospettiva, loro devono essere le nostre guide e per fare questo dobbiamo dargli tutte le condizioni socio, economiche e culturali perché fra qualche anno quando dovranno fare scelte più importanti per il loro percorso di vita decidono di investire su Caserta Città, di rimanere il loro patrimonio culturale in questa città e aiutarla a costruire attraverso loro una nuova caserta.